Un saluto agli amici che ci seguono, il nostro approfondimento è dedicato al tennis perché abbiamo seguito nel corso di questa settimana l'ottava edizione del Memorial Albino Boscatto sui campi del Team Boscatto a Pianure, in questa che di per sé è una scenografia particolare, in mezzo ai palazzi si è giocato a tennis con grande divertimento, trasporto e partecipazione da parte degli appassionati. E' una nota lieta perché non è che accada tanto spesso di questi tempi in campagna, è da qui che è partita la vera stagione tennistica nella nostra regione. La finale è stata bellissima perché a vincere è stato Riccardo Bellotti che qui alla mia destra, per lui si è trattato di un ritorno al successo perché qui aveva già vinto e invece è andata male ad Alessandro Motti di Reggio Emilia, Emiliano però ha tenuto testa al dirimpettaio e ha reso avvincente questa partita. Incomincerei proprio da Alessandro, dopo un primo set praticamente a senso unico, 6-0 per Bellotti, sei riuscito a riprendere la partita, poi grande equilibrio anche nel terzo set ma non è bastato. Io sono partito molto male, lui molto bene, ci ho messo un po' ad entrare in partita, lui non si aspettava forse la mia reazione nel secondo e al terzo si è trovato forse più in difficoltà di me, con la testa, con i colpi e alla fine in lotta ha prevalso lui. Ecco, tiriamo anche un bilancio di questa settimana, di questi giorni che è trascorso a Napoli per la precisione perché va sottolineato a pianura. Mi sono trovato molto bene, è il primo anno che vengo, vengo sempre volentieri qui a Napoli, ho giocato anche per altri circoli, per altri tornei e ringrazio naturalmente tutti quelli che hanno contribuito al torneo a trattarci bene, una finale è sempre qualcosa di positivo e quindi una settimana positiva per il mio tennis e per tutti. E c'è la doccia che ti aspetta, vogliamo liberarti perché la partita è finita da pochissimo, tra poco avrete modo di rivedere anche le fasi salienti con la cronaca di Umberto Falanga, quindi io ringrazierei Alessandro Motti e andandola a congelare così, un grosso in bocca al lupo e la speranza di rivederti vincente da queste parti. Grazie, complimenti a voi e a Riccardo, vincitore del torneo. L'applauso che sentite mentre liberiamo Alessandro Motti è quello dei tanti appassionati, c'è tantissima gente e intanto si accomoda Massimo Boscatto, qui al mio fianco che è maestro di casa e chi gestisce, chi fa tantissimi sacrifici affinché la manifestazione si ripeta di anno in anno, Riccardo Bellotti lo presenti tu, perché ormai se dico che è napoletano forse è eccessivo. No, 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 non sbagli, è più napoletano dei napoletani, quindi è rientrato a casa in un certo senso, perché lui si sente più napoletano veramente che austriaco in un certo senso, vero Riccardo? E in più c'è qualcosa di più ancora qui a Napoli, quindi lui viene molto volentieri. No, scherzando, diciamo che Riccardo è un ragazzo conosciuto, abbiamo conosciuto quando Riccardo? Tre anni fa, credo. Tre anni fa e da lì non si è mosso più. Siamo contenti perché vediamo veramente del tennis quando lui viene qui. Ce l'ha dimostrato anche al Green Park ultimamente, qualche mese fa, dove aveva quasi stracciato il vincitore del torneo, Leonardo Maier. Ci è bastato quel pizzico di esperienze in più per portarsi a casa una partita importante. Sapevamo che qui poteva fare bene, era il favorito, Alessandro gli ha dato filo da torcere. Ha prevalso, secondo me, quel qualcosino in più che lui ha e che secondo me lo porterà a giocare a tennis se è caparbio ad altissimi livelli. Sono contento di sentire queste parole perché tu non regali mai niente a nessuno. Quindi se lo dici vuol dire che ci credi, che stai investendo massimo sacrificio, impegno, su Riccardo Bellotti che merita la nostra copertina. Allora Ric, oggi bella giornata, bella giornata anche per i risultati calcistici, perché conosco qualcosa della tua fede. Eh vabbè, questa la lasciamo da parte. Bella finale, intensa e quando poi si vince soffrendo forse anche più bello. È sempre bello vincere, devo dire. Però ho iniziato veramente bene, no? Posso dire due secondi se sono un po' calato, però alla fine io ci tenevo tanto a vincere qua. Perché è una coppa là dentro, una coppa questa grande che mi aspetta dopo tre volte di vittoria e me la porta a casa, quindi ci tenevo tanto a vincere. E questo è l'applauso che immagino partirà spontaneo, no? Sì. Allora, guardiamo un po' avanti, in prospettiva che cosa ti aspetta? Anche tu stai scommettendo sul tuo futuro. Beh io, sì ovviamente, ma io non cerco di far finta di niente perché io voglio solo giocare a basso, voglio stare tranquillo e non mi importa tanto quello che la gente dice, perché penso che la gente si aspetta troppo e può darmi fastidio. Benissimo, complimenti Riccardo in bocca al lupo, che tu possa vincere ancora tanti tornei anche più prestigiosi di questo che rimane, lo ripeto, fiore all'occhiello per il movimento regionale che non sta attraversando un periodo florido, straordinario, però è da qui che si riparte per far vedere e capire alla gente che c'è la passione tennistica in campagna. Voglio salutare anche Massimo Boscato, so che l'appuntamento è rimandato alla prossima edizione, tutto questo ovviamente in attesa di rivedere le fasi salienti della finale, con il commento di Umberto Falanga, ci salutiamo Massimo, complimenti anche per gli altri ragazzi perché hanno giocato bene Pirozzi, Di Gaetano che è stato battuto da Bellotti in semifinale, insomma il gruppo dei ragazzi che è attorno risponde, anche i più piccoli che abbiamo conosciuto nelle scorse settimane. Abbiamo avuto un ottimo torneo, Silvio, come tu hai visto e tu sei stato uno dei partecipanti anche se non con molta gloria, si capita spesso, no diciamo che il torneo come ogni anno diventa sempre più interessante, c'è un maggiore afflusso di giocatori, quest'anno siamo arrivati a 130-131 iscritti, quindi avere una manifestazione del genere in un circolo con una struttura così limitata e con una qualità di giocatori notevole è un motivo di soddisfazione per me e per chi collabora con me. Quindi diciamo che questo può essere poi la possibilità di organizzare qualcosina di più grosso in un futuro. Spero presto perché ovviamente la situazione di crisi in tutto e per tutto ci sta pigliando a tutti quanti, però ci sono dei supporter qui che vedo qualche amico che ancora ci dà una mano e continuerà, spero per l'anno prossimo a darci una mano e continueremo a far vedere un po' i tennis qui nel quartiere e anche nella regione. Sai, chiudiamo davvero così, lasciandovi poi le immagini della premiazione, non prima di aver rivisto le fasi salienti della finale vinta da Bellotti. Il mio auspicio, una provocazione auspicio, mettiamo così, io vorrei vederti all'opera con 5, 6, magari anche 7 campi da gestire e tanti ragazzi a modi accademia. Secondo me qualcuno bravo verrebbe fuori. Certo, avere una struttura diversa non sarebbe male. La voglia di dare ai ragazzi ce n'è tanta, voglio dire, l'esperienza è fondamentale per questo lavoro qua. Ci stiamo provando, stiamo cercando qualcosa di positivo, quindi i ragazzi ci sono, elementi positivi ci sono, ragazzi che hanno voglia. C'è qualcuno che ancora sta cercando di arrampicarsi un pochino, però sta cercando di dare il massimo. Ovviamente avere una struttura diversa, non perché questa non sia adatta, però sappiamo benissimo che per cercare qualcosina di grosso, di importante, dietro le spalle bisogna avere le belle forti, quindi prima o poi uscirà fuori qualcosa e quindi ci proveremo. Benissimo, questa è la certezza, l'applauso degli appassionati. Vi ricordo che Riccardo Bellotti ha vinto l'ottava edizione del Memorial Albino Boscato qui a Pianura, insomma siamo pronti, vediamo in che modo ha vinto gli ultimi game, commento di Umberto Falanga e poi le fasi conclusive con la premiazione. Buon proseguimento. Brutto errore ora di Bellotti che scarico con le gambe, butta in rete in malo modo questo diritto, 15 pari. Grazie. 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 30-15, continua a dare fastidio a Bellotti questo gioco in back di Motti. Ha bisogno di ritmo Bellotti per far uscire le proprie qualità. Naturalmente questi sono dei punti decisivi. Ai fini del match ancora un errore di Bellotti e 40-15. sono dei punti dell'obiettiva. Magna bene questo gioco iniziale ciò. ha ancora un brutto errore di Bellotti che guarda disperato la propria racchetta non riesce più a essere incisivo con la risposta così come era stato nel primo tempo e Motti si porta in vantaggio per 2 a 1 in questo terzo e decisivo set 2 a 1 Motti a servizio Bellotti punto ora di gran classe da parte di Motti che fa vedere di avere delle ottime qualità di tocco 0.15 ottimo questo colpo quasi indemivolé da parte di Bellotti che approfitta del campo lasciato sguarnito dall'avversario e mette a segno il punto del 15 pari non 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 bellissimo questo scambio il più lungo del match abbiamo contato oltre 20 colpi scambio che sicuramente sembra aver provato di più motti tra i due lo ricordiamo c'è una notevole differenza di età e anche di esperienza ora la situazione è 30-15 grande risposta ora di motti che sembra aver messo a punto anche il proprio rovescio dopo per gran parte dell'incontro aver usato solo il rovescio di taglio che tra l'altro ha dato molto fastidio all'avversario ora riesce anche ad andare sopra la palla ed essere maggiormente incisivo 30 pari entra in campo con una bella volée alta di diritto si prende il punto del 30-40 palla a break attenzione potrebbe questo essere un momento decisivo del match si è fermato a guardare la prima palla dell'avversario che in effetti ha praticamente per pochissimo toccato la linea infatti ora la va a guardare ma in effetti la palla anche da la nostra postazione sembrava buona si è un po' distratto e non è stato in grado poi di recuperare lo sprendito diritto dell'avversario ad uscire parita ancora uno scambio durissimo questa volta ad uscire il vincitore è stato Motti che continua ad alternare top spin e back spin che mettono in seria difficoltà l'avversario che non riesce a far salire il giro del proprio motore e quindi alla fine quasi sempre sbaglia brutto errore questo di Bellotti che regala praticamente il gioco del 3-1 a Motti improvvisamente si è riaccesa la luce nel gioco di Bellotti che ha iniziato a spolverare grandi colpi da fondo campo e Motti ha subito un parziale di 4 giochi a 0 situazione area di 5-3 per l'italo-ostriaco a servizio Motti che mette i piedi in campo ottimo questo smash 15-0 naturalmente ora questo break di svantaggio sarà dura per Motti recuperarlo staremo a vedere 15 pari brutto errore questo errore gratuito ora di Bellotti che continua a tastare la tensione della propria racchetta 30-15 cala l'intensità del servizio di Motti che a questo punto sembra essere molto stanco sul suo fisico pesa anche la dura semifinale di ieri in cui ha combattuto per 3-7 contro Pirozzi 30 pari aveva accorciato qui Motti la palla era abbastanza comoda a metà campo ma è arrivato l'errore di Bellotti che era due punti dal match ora invece Motti ha la possibilità di allungare questo set con la palla del 4-5 sul 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 sulto di orgoglio di Motti ottimo questo diritto una situazione ora è 5-4 per Bellotti che al cambio di campo avrà la possibilità di servire per il match e per il trofeo Albino Boscato serve per il match ora Bellotti serve per il match Bellotti diritto profondo e lungo che mette in difficoltà l'avversario che ha cercato un passante in back molto difficile 15-0 e qui Bellotti non carica bene questa volia ha cercato un tocco forse di troppo il campo era aperto bastava essere più incisivo con la volia per ottenere il punto del 30-0 invece siamo 15-0 si lamenta la ragione ora Motti un brutto errore un brutto errore questo che dà il 30-15 all'avversario di nuovo a due punti dal match Bellotti seconda palla di servizio situazione delicata del match avanza Motti sagra degli errori qui Bellotti era stato favorito dal netto colpito dall'avversario che gli aveva in questo modo rimandato una palla comoda lo spazio per il passante c'era ma Bellotti è andato un po' troppo insicuro su questa palla 30 pari Motti lotta come un leone ma alla fine non può nulla sulla solidità e sulla profondità dei colpi di Bellotti davvero un bel match siamo ora al match point per Bellotti e finisce qui una splendida manifestazione e come i favori del pronostico volevano ad aggiudicarsi l'ottava edizione del trofeo nazionale Open Albino Boscato e la testa di serie numero 1 Riccardo Bellotti che supera in una finale molto combattuta 6-4 al terzo Motti che comunque ha dimostrato di essere un ottimo giocatore di cui che